Alberto Ricaboni ha cessato di vivere ieri mattina. Sono risultati vani tutti i tentativi dei medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Bruzzo di Cagliari di tenere in vita il giovane coinvolto nel terribile scontro di domenica sulla statale 126. Archiviate le politiche, Iglesias si prepara alle amministrative. Il Movimento 5 Stelle, dopo i trionfali risultati raggiunti alla Camera e al Senato, punta a conquistare la guida del Comune. Riparte la raccolta di firme del Comitato per l'insularità in Costituzione. Il Comitato Promotore Sardo ha unito le forze con i comitati di Sicilia e isole minori e raccoglierà in tutta Italia le firme per una legge di iniziativa popolare. La festa di Sant'Antioco Martire ha un logo ufficiale. L'immagine simbolo trae ispirazione dalle molteplici componenti religiose, iconografiche e folcloristiche che delineano la festa. Buon martedì 13 marzo 2018 a tutti i telespettatori ben ritrovati per questa nuova edizione del TG40. Apriamo con la cronaca e purtroppo con una triste notizia perché sono risultati vani tutti i tentativi dei medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Bruzzo di Cagliari di tenere in vita Alberto Riccaboni, il ventenne studente di ingegneria di Iglesias coinvolto domenica nel terribile scontro tra due auto verificatosi sulla strada statale 126 all'altezza del chilometro 30 nel tratto compreso tra Gonesa ed Iglesias. Il giovane stava rientrando a casa con tre compagni di squadra a bordo di una Nissan dopo aver giocato una partita di calcio a 5 con la squadra Under 21 di Gonesa. L'auto si è scontrata con una Citroen condotta da un uomo di 44 anni che viaggiava insieme alla figlia di 11 anni. Sul posto si sono recati i carabinieri di Iglesias e Gonesa che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni di Alberto Riccaboni che viaggiava su un sedile posteriore sono apparse subito gravissime ai soccorritori. Sono intervenuti anche l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Tanto che dopo un breve passaggio al CTO di Iglesias è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'ospedale Bruzzo di Cagliari. Tutti i tentativi dei medici purtroppo, come già sottolineato, sono risultati vani. Una volta che i medici hanno accertato la morte cerebrale, i genitori del giovane e figlio unico hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Passiamo alla politica. Le elezioni politiche sono ormai alle spalle e il pensiero di molti è già rivolto alle prossime elezioni amministrative. Guardiamo il servizio. Le elezioni politiche sono ormai alle spalle e il pensiero di molti è già rivolto alle prossime elezioni amministrative. I comuni del sul Cisiglesiente, che tra un paio di mesi, la data non è stata ancora ufficializzata, saranno chiamati alle urne per eleggere nuovi sindaci e consigli comunali, sono tre. Iglesias, Teulada e Flumini Maggiore. Oggi concentriamo la nostra attenzione su Iglesias, il comune più grande, fino ad alcuni anni fa capoluogo insieme a Carbonia, della provincia di Carboni Iglesias. La campagna elettorale è già iniziata da tempo e, rispetto a cinque anni fa, nel panorama politico cittadino di Iglesias c'è una sostanziale novità che promette di rivoluzionare gli equilibri, la presenza del Movimento 5 Stelle. Nel 2013 il Movimento 5 Stelle non si presentò alla competizione elettorale per dissidi interni agli attivisti, ma questa volta dovrebbe esserci e, stando ai risultati delle recenti elezioni politiche, molto agguerrito, deciso a conquistare la guida del comune di Iglesias per i prossimi cinque anni. I numeri emersi sono clamorosi e, seppure le elezioni amministrative siano profondamente diverse rispetto alle politiche, questi numeri e la recente esperienza vissuta dalla vicina a Carbonia inducono a profonde riflessioni e a prudenza. Nei collegi uniluminali della Camera e del Senato il Movimento 5 Stelle il 4 marzo a Iglesias ha raggiunto rispettivamente il 46,30% e il 47,14%. Il Partito Democratico, alla guida della città con la giunta del sindaco Emilio Gariazzo, ha registrato un risultato assai negativo, rispettivamente l'11,82% alla Camera e l'11,83% al Senato. Forza Italia ha raggiunto il 12,63% alla Camera e l'11,99% al Senato. La Lega con il Pisdaz, l'8,77% alla Camera e l'9,99% al Senato. L'Udc il 5,95% alla Camera e il 4,20% al Senato. Fratelli d'Italia il 3,07% alla Camera e il 4,15% al Senato. Liberi uguali il 3,32% alla Camera e il 3,13% al Senato. Va detto che cinque anni fa il centrodestra si presentò alle elezioni con una lista civica, Piazza Sella, che raggiunse il ballottaggio con il candidato sindaco Gianmarco Eltrudis, che poi perse di misura lo scontro con Emilio Gariazzo, 51,68% contro 48,32%. Oggi c'è già in campo una candidata a sindaco, Valentina Pistis, capogruppo di Casa Iglesias, espressione dei riformatori sardi, cinque anni fa alleata con il centro-sinistra e poi passata all'opposizione nel corso della consigliatura. È, a livello regionale, da anni componente della coalizione di centrodestra, che ha anche il sostegno della lista del Partito Comunista del consigliere Alberto Cacciarro. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche dagli altri schieramenti, perché il tempo stringe e le scadenze per le amministrative sono ormai alle porte. Archiviate le elezioni politiche, autodeterminazione è impegnata nella fase successiva del progetto che coinvolge partiti, movimenti ed associazioni nella promozione di comitati di quartiere e cittadini di paese e territoriali a partire dagli iscritti ai vari partiti e movimenti, ma aperti a tutti gli apporti e presenze, che lavoreranno assieme all'ascolto e alla proposta culturale e politica finalizzata all'autodeterminazione della società sarda e che verranno affidati prevalentemente ai ragazzi. Autodeterminazione si affida ai più giovani, non solo all'anagrafe, ma anche relativamente all'esperienza politica. Già in tanti sono emersi nel corso della campagna elettorale, altri ancora prenderanno in mano l'attività sui territori prima di poter in un futuro molto prossimo essere protagonisti dell'attività in tutta l'isola, afferma Anthony Muroni, confermato coordinatore del progetto. Il primo atto di Muroni è stato quello di nominare Maurizio Onnis, sindaco di Villanova Forru, come responsabile per i rapporti con gli amministratori locali della Sardegna. Cambiamo argomento, la Sardegna è ai primi posti nella speciale classifica stilata dal consorzio Cial per il recupero e il riciclo dell'alluminio sui dati 2017. Vediamo il servizio insieme di Giampaolo Cironis. La Sardegna è ai primi posti nella speciale classifica stilata da Cial, consorzio nazionale per il recupero e il riciclo dell'alluminio sui dati 2017 per individuare le migliori performance quantitative e qualitative di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, lattine per bevande, vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Sulla base di tale classifica Cial infatti ha assegnato il cosiddetto premio resa, un incentivo economico per incoraggiare su tutto il territorio nazionale modelli di raccolta differenziata intensivi in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli ambiti territoriali. Tra le varie realtà nazionali premiate merita un discorso a parte la Sardegna, regione nella quale il 46% dei comuni, 172 su 377, rientra nella gestione di società o ambiti territoriali premiati da Cial per i buoni risultati raggiunti nel 2017. Tra i comuni sardi più virtuosi si segnalano Alghero, Cagliari, Nuoro e Oristano. Inoltre hanno ricevuto il premio di Cial la società Eco San Sperate, 93 comuni per 750 mila abitanti tra le province di Cagliari e Carboni Iglesias, la Icnos Ambiente di Uta, 37 comuni e 170 mila abitanti serviti, la Gesam di Sassari e infine il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Bentornati in studio. Sardegna, Sicilia, isole minori unite nella battaglia per il principio di insularità. Il servizio. Si è svolta contemporaneamente in tre diverse sedi a Cagliari, a Palermo e presso l'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori, ANCIM, la conferenza stampa di presentazione della partenza della grande iniziativa nazionale rivolta al riconoscimento della questione dell'insularità. Nei mesi scorsi il Comitato a Sardo ha raccolto 92 mila firme per il referendum per l'insularità in Costituzione, mentre quello siciliano sta chiedendo con forza una consultazione popolare per l'inserimento del tema nello Statuto isolano, legge a valenza costituzionale. Tutti e tre i comitati hanno annunciato la nascita di un fronte unito che sostiene una nuova straordinaria sfida con l'obiettivo di trasformare la questione insulare in una vera e propria avvertenza nazionale. Come hanno spiegato i promotori, sabato 7 aprile partirà dunque in tutti i capoluogo italiani la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di una proposta di legge ed iniziativa popolare di modifica della Costituzione che preveda l'inserimento del principio di insularità. Le 50 mila firme indispensabili per la presentazione della proposta non verranno dunque raccolte soltanto in Sicilia, in Sardegna, nelle piccole isole, dove sarebbe stato facilissimo raggiungere in brevissimo tempo le sottoscrizioni indispensabili. Per scelta il comitato promotore raccoglierà le firme in tutte le città della penisola, da Roma a Milano, da Napoli a Bari, a Torino a Venezia e chiederà con determinazione a tutti gli italiani che abitano nella penisola di condividere questa battaglia di civiltà che ripudia per le isole ogni strategia di sviluppo fondata sull'assistenzialismo e rilancia invece la cultura della responsabilità. della solidarietà e della competizione basata su uguali punti di partenza. Il riconoscimento costituzionale della situazione di insularità è dunque la strada tracciata per ottenere parità sostanziale di diritti e pari opportunità che apre regimi di vantaggio per compensare le condizioni sfavorevoli di contesto. Anche il comune di Carbonia si è attivato per i voucher Io Studio 2017, istituiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR, a favore degli studenti delle scuole secondarie e di secondo grado e paritarie, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l'emissione di voucher in forma virtuale stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente convenzionati per l'iniziativa. L'importo di ciascuna borsa di studio è stato determinato in 200 euro. Per poter accedere alla borsa di studio Voucher Io Studio 2017 è necessario essere iscritti per l'anno scolastico 2017-2018 agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale, scuole statali e paritarie. Appartenere a famiglie il cui ISEE rientri nella soglia massima di 14.650 euro e presentare la domanda al Comune di Carbonia entro il 30 marzo 2018. La Giunta Comunale ha presentato il logo ufficiale della festa di Sant'Antioco Martire, un'immagine simbolo che trae ispirazione dalle molteplici componenti religiose, iconografiche e folcloristiche che delineano la festa nell'intento di rappresentarne i valori fortemente identitari, traducendoli allo stesso tempo in una raffigurazione moderna e accattivante. Nel logo si distinguono infatti tutte le suggestioni che lo hanno ispirato dall'aureola del santo alle bandierine, dai colori dell'abito tradizionale antiochense ai ricami floreali, eccetera. Per l'importanza che riveste la festa di Sant'Antioco, il piano dell'amministrazione comunale è quello di avviare un percorso che tenda a potenziare l'evento, non solo dal punto di vista culturale e religioso, ma anche da quello della valorizzazione del territorio. A breve verrà presentato l'intero programma della 659esima edizione della festa di Sant'Antioco, che si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2018. Un'iniziativa sociale finalizzata alla realizzazione di un maggiore decoro urbano nella storica piazza di Cortoghiana, Piazza Venezia, destinata a diventare una delle principali aree fruibili da bambini e ragazzi della nostra città per le loro attività ludiche e di svago. Così, l'assessore delle manutenzioni dei comuni di Carbonia, Gianluca Lai, ha commentato i risultati dei lavori svolti recentemente dal gruppo Scouts Cortoghiana 1 in occasione della Giornata del Pensiero, dove circa 120 scout di età tra gli 8 e i 21 anni hanno riqualificato l'area giochi presente all'interno della piazza della popolosa frazione di Carbonia. Una manifestazione organizzata dall'associazione Guidescout Cattolici Italiani, gruppo Cortoghiana 1, con il patrocinio del Comune di Carbonia e la collaborazione di Somica. L'intervento, ha concluso l'assessore delle manutenzioni Gianluca Lai, ha contribuito a rendere maggiormente fruibile a favore di bambini e ragazzi una piazza che costituisce già un fiore all'occhiello della nostra città dal punto di vista architettonico. Sabato 17 marzo si svolgerà a Nugis, nell'ambito della giornata della memoria in ricordo delle vittime e delle mafie, organizzata dall'associazione culturale L'Essorgenti e dalle scuole medie di Nugis e Sant'Adi, verrà scoperta una targa per ricordare la morte in Sicilia per mano della banda di Salvatore Giuliano di un giovane carabiniero di Nugis, Antonio Pugusa, allora 23enne. Con lui trovarono la morte altri sei carabinieri. Sono stati invitati tra gli altri il generale Giovanni Truglio, comandante della legione dei carabinieri della Sardegna, il colonnello Luca Menniti, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, il senatore Gianni Marilotti, il deputato Pino Cabras, Mauro Mura, ex procuratore della Repubblica ed ex capo della direzione distrettuale antimafia di Cagliari, i sindaci di Nugis, Carbonia, Giba, Masainas, Narcao, Perdagius, Piscinas, Sant'Adi, Sant'Annaresi, Trattalias e Villa Peruccio e infine Don Marco Farris, parroco di Nugis. Cambiamo argomento, sono 196 gli operatori, 81 medici e 115 infermieri che si stanno cimentando da giovedì a Calagonone con le prove attitudinali preliminari all'accesso al percorso di formazione per operatori sanitari del servizio di elissoccorso regionale. Le attività, denominate giornate alpine, si svolgono in stretta collaborazione con gli operatori del soccorso alpino e servono a testare la resistenza fisica, la predisposizione allo sforzo su terreno impervio, l'autocontrollo e l'attenzione generale. La verifica attitudinale, spiega il direttore generale dell'Areus, Giorgio Lenzotti, porterà all'individuazione di un totale di 80 operatori, 40 medici e 40 infermieri professionali che dopo un adeguato percorso formativo, clinico, assistenziale ed aeronautico opereranno nelle tre elibasi di Olbia, H24, Cagliari H12 e Alghero H12. L'Auser di Carbonia ha organizzato per il prossimo 23 marzo, con il patrocinio dell'Assessorato delle politiche sociali del Comune di Carbonia e dell'Auser regionale, in collaborazione con Sardegna Solidale, l'iniziativa alle rotte dell'immigrazione, inserita nel progetto scuola e volontariato. Sono previsti gli interventi del Vescovo di Iglesias, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, l'Assessore delle politiche sociali del Comune di Carbonia a Loredana la Barbera, Franca Cherchi, Presidente regionale dell'Auser, Raffaele Callia, Direttore della Caritas di Ocesana di Iglesias, Kourosh Donesh, Coordinatore nazionale delle politiche dell'immigrazione della CGL. Le conclusioni saranno affidate a Giampaolo Farru, Presidente di Sardegna Solidale. Nel corso dei lavori verrà presentato il progetto specifico denominato GAM, Giovani, Anziani e Migranti, alla ricerca di un'assoluzione che verrà consegnato ufficialmente alla Sindaca di Carbonia Paola Massidda e alle autorità presenti. Dal 1 novembre 2017 i servizi al pubblico e i servizi didattici di Museo archeologico Villa Sulcis, Museo dei Paleoambienti Sulcitani, PAS, Parco archeologico di Montesirai, Parco archeologico di Cannas di Sotto a Carbonia e di Parco archeologico di Montessu a Villa Peruccio sono gestiti dalla società cooperativa Sistema Museo www.sistemamuseo.it. I nuovi contatti per le info e prenotazioni sono i seguenti Parco archeologico di Montesirai 345 755 9751 Museo archeologico Villa Sulcis, Museo dei Paleoambienti Sulcitani e Parco archeologico di Cannas di Sotto fisso 0781 1867 304, cellulare 345 888 6058 Parco archeologico di Montessu 340 74 33 521 E-mail carbonia-chiocciolasistema-museo.it Villa Peruccio-chiocciolasistema-museo.it Dopodomani giovedì 15 marzo alle ore 15.45 a Cagliari presso il comando legione carabinieri di Via Sonnino alla presenza di autorità civili e militari verrà presentato il calendario dei carabinieri 2018 in lingua sarda Siamo in finale, parliamo di sport. Una sul Cispes decimata ha perso nettamente 88 a 66 sul campo dell'Astro Cagliari Sabato sera la squadra lagunaria ha sofferto le incursioni avversarie non riuscendo ad arginarne a dovere le trame offensive Per l'ennesima volta abbiamo affrontato un avversario importante con la formazione rimaneggiata ha detto coach Paolo Massida Siamo partiti abbastanza bene mantenendo il primo quarto sul punteggio di parità ma nel corso della gara abbiamo pagato l'esserci affidati troppo al tiro da fuori e le percentuali non sono state delle migliori Per quanto riguarda la difesa le abbiamo provate tutte ma probabilmente ha prevarso la stanchezza ed il nervosismo per cui sono spesso saltati gli schemi È tutto per il nostro telegiornale odierno Io vi lascio adesso alle previsioni meteo per la giornata di domani in seguito Noas in Curzu a cura di Guido Cadoni Questa sera invece l'appuntamento vi ricordo alle 21 e con frontiere a cura di Dona Milcare Gambella Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con il Tg40 per le prossime edizioni Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti